Ciao, sono Marco e nel video di oggi parleremo del tema per e-commerce neve. Nei video precedenti abbiamo iniziato a vedere alcuni tra i temi più popolari nel 2021 per costruire e avviare nuovi e-commerce, tema caldo in questi ultimi anni. Non solo, stiamo partendo da temi totalmente gratuiti che poi sono possibili di aggiornamento alla versione Pro con Future aggiuntive, ma che sono molto utili e molto completi per avviare un'attività, sia un'attività di tipo di e-commerce piccolino, come anche e-commerce a livello un po' più professionale, perché no? Direi quindi a questo punto di non perdere altro tempo e di andare a vedere questo tema neve. Direttamente dalla directory ufficiale di Wordpress troviamo neve, in questo tema appunto sempre di Temisle, come abbiamo già visto in altri video. È un tema dai colori molto accesi, mobile first, quindi c'è un occhio soprattutto al mobile per quanto riguarda questo tema, visto che comunque oggi non solo buona parte delle visite dei siti si sono spostate sul mobile, ma anche gli acquisti negli e-commerce, negli store online vengono effettuati da cellulare. Andiamo a vedere quelle che sono alcune delle particolarità, o comunque quella che è la pagina di presentazione di questo tema neve. Abbiamo appunto un tema che è molto veloce e leggero, quindi è un'altra nota positiva, nel senso che le pagine dei prodotti, le pagine dei siti costruiti con questo tema saranno molto rapide, molto veloci nella risposta e questo eviterà il rischio di abbandono di carrelli, abbandono del sito, eccetera. Come abbiamo già visto in altri video presenti sul mio canale. È velocissimo da configurare, da personalizzare, ci sono costantemente aggiornamenti e nuove future aggiuntive. Abbiamo qua un showcase di alcuni e-commerce, alcuni siti costruiti utilizzando NIV, quindi questo tema per WordPress. WordPress, come dicevo prima, è un sito che è assolutamente improntato su quella che è la leggerezza e la velocità. Quindi abbiamo dei test della GTmetrix, dei test passati al 100%, quindi il fatto che abbia degli escorpi piuttosto alti e che il caricamento sia davvero e davvero veloce, ci consente appunto, come ho detto prima, di avere un sito e di avere un e-commerce, di partire con un e-commerce già performante. Qui parliamo del future. Possiamo appunto costruire un e-commerce in maniera professionale in pochi minuti. Questo è il claim, diciamo, di questa pagina, dove possiamo andare a personalizzare addirittura header e footer di questo tema, possiamo controllare quello che è il layout di questo tema e personalizzarlo in maniera veloce e totale. Non solo possiamo utilizzare il customize di WordPress per andare a effettuare queste modifiche o andarci ad integrare con i maggiori page builder, quindi stiamo parlando di Elementor, Breezy, Behavior Builder, Visual Composer, Site Origin, Deep Builder, per esempio. Quindi i maggiori page builder, quindi se non hai dimestichezza magari con WordPress o col customize di WordPress, col page builder, come abbiamo già visto in altri video, utilizzando il drag and drop e la live preview di quello che effettuiamo le modifiche, possiamo andare a ottenere un livello di personalizzazione pari al 100%. Come già detto, NIV è assolutamente mobile ready, quindi pensato soprattutto per i cellulari, è compatibile con AMP di Google, quindi Accelerated Mobile Page, per quanto riguarda quindi la lettura di articoli e di pagine. Ci sono più di 80 siti starter, quindi una collezione di demo già pronte, ne possiamo magari andare a vedere una, andiamo a vedere un negozio, un birrificio, e qui abbiamo la presentazione di questo e-commerce. Abbiamo i prodotti, abbiamo quello che è una sezione con magari delle offerte, abbiamo la produzione, quindi la spiegazione di questo birrificio, abbiamo delle edizioni limitate, abbiamo quelle che sono le testimonianze dei clienti, e abbiamo poi i prodotti, direi di andare un attimino a vedere. Ok, qui abbiamo una pagina di singolo prodotto, dove abbiamo tutte le informazioni relative al prodotto, ovviamente abbiamo la descrizione, abbiamo anche i prodotti correlati, abbiamo anche un bel blocchetto sticky che ci consente di aggiungere al carrello questo prodotto, anche se siamo arrivati a fondo pagina, come già detto abbiamo questo sito totalmente mobile first, pensato per il mobile, infatti guardate abbiamo decisamente un bel menu di navigazione, qui abbiamo la visualizzazione delle immagini, abbiamo l'aggiungere al carrello, tutto costruito nel migliore dei modi per aiutarci a concludere l'acquisto sul nostro sito. Questa è la home page, stiamo visualizzando anche la home page per quanto riguarda sempre il mobile, e direi che il risultato è davvero ottimo. Torniamo pure indietro a quelle che erano le demo, quindi qua abbiamo demo pre-costruite, che possiamo andare a utilizzare, sono anche suddivise tra varie categorie, quindi abbiamo home page, abbiamo e-commerce, abbiamo Elementor, quindi sono demo costruite magari con Elementor, abbiamo varie tipologie. Poi a questo punto andiamo avanti, qua abbiamo una serie di add-on pro, quindi dei booster che sono fondamentalmente degli incrementi di funzionalità che possono andare a migliorare, quindi quelle che sono le vendite per quanto riguarda WooCommerce, lo stesso identico discorso valido per quanto riguarda il blog, quindi abbiamo funzionalità aggiuntive, layout diversi, sempre nella versione pro, stessa cosa anche per quanto riguarda leader, abbiamo diverse possibilità di personalizzazioni nella versione pro, diversi layout che possiamo utilizzare nella versione pro, quindi sono varie future che abbiamo in aggiunta nella versione pro. Abbiamo un white label di cui abbiamo già parlato, per cui possiamo nascondere totalmente chi ha sviluppato questo tema e risultare noi gli sviluppatori o comunque i titolari di questo tema. Abbiamo anche l'Elementor booster, quindi abbiamo nuovi premium widget da poter utilizzare con questo sito, con questo tema insieme con Elementor grazie alla versione pro. Abbiamo comunque la versione free di cui l'abbiamo visto poco fa, qua abbiamo quelle che sono le future, diciamo, base della versione free, qua abbiamo delle testimonianze per quanto riguarda gli utenti che le hanno utilizzate e qua abbiamo il pricing table. Abbiamo licenze personali per un sito, abbiamo licenze, no, questa licenza è appunto personale per iniziare, abbiamo un anno di supporto per i limitati siti. Poi abbiamo la versione business che ha in più anche i siti premium starter sites, quindi le demo che abbiamo visto prima. Abbiamo l'e-commerce booster, quindi alcuni di quegli add-on che abbiamo visto e il priority support, quindi il supporto prioritario. Poi abbiamo la versione agency che ha tutto quello che abbiamo visto prima, sia nel personal che nel business, più abbiamo ancora il white label e priority live chat support, direi. Questi prezzi sono in abbonamento annuale, se vogliamo avere tutto ciò di cui abbiamo necessità in un pagamento una tanto, possiamo scegliere la versione lifetime a 189 dollari per personale, 2,99 per la versione business, 4,99 per la versione agency. Direi che per quanto riguarda questo interessantissimo tema, NIV, del quale, come già detto in altri video, io consiglio assolutamente di partire prima con la versione gratuita, quindi lanciare il nostro store, lanciare il nostro e-commerce, partire, vedere come ci troviamo con questo tema, se ci piace questo tema, se abbiamo poi necessità di avere funzionalità aggiuntive, abbiamo il pricing table, possiamo andare ad acquistare le versioni pro, quindi con le dovute aggiunte, con le dovute, con quelle che sono appunto le future aggiuntive e ottenere il massimo da questo tema. È comunque un ottimo tema per poter iniziare in versione gratuita. Per quanto riguarda NIV, per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciami le scritte qua sotto nei commenti, così che magari posso esserti d'aiuto per quanto possibile. O se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, e-commerce, temi, plugin, Elementor, e spulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che cercavi, scrivimelo anche questo qua sotto, così che magari io posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che ho visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qui sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!